Buongiorno a tutti, oggi venerdì 3 maggio, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 14 versetti dal 6 al 14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli se conoscete me conoscerete anche il Padre, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo signore mostraci il Padre e ci basta, gli rispose Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo che ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre, non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me, le parole che io vi dico non le dico da me ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Oggi è la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo e in questo passo del Vangelo che ascoltiamo nella liturgia di oggi troviamo Filippo che chiede a Gesù di poter conoscere il Padre e Gesù risponde alla richiesta di questo suo apostolo dichiarando il legame profondo e vivo che esiste tra Gesù e il Padre. Dice il Padre è in me e io sono nel Padre. Questo legame profondo che fa essere Gesù nel Padre e il Padre in Gesù è veramente l'amore in persona, chiamato appunto Spirito Santo. Ora questo amore eterno che è in Dio lo Spirito Santo, poiché è amore puro, è dono puro, totalmente, costantemente offerto a noi viene effuso in ogni creatura. Per questo quando contempliamo l'amore tra padre e figlio non possiamo che riconoscere una somiglianza profonda con ogni creatura perché l'amore del creatore unisce tutte le creature formando in noi e intorno a noi la bellezza che siamo gli uni per gli altri. Chi arriva a contemplare questo mistero sperimenta la forza profonda della vita stessa che è potenza d'amore in ogni creatura, una forza vitale che in noi è potenza di risurrezione, potenza di vita nuova. Accogliere allora la forza vivificante dello Spirito Santo e accogliere la potenza dell'amore divino. Per questo Gesù oggi ci assicura che potremmo compiere le opere del padre, compiere le opere che lui compie, anzi ne faremo, ci dice Gesù, ce lo assicura anche di più grandi. Per questo nel suo nome, cioè se dimoriamo in questa relazione profonda nell'amore divino possiamo ottenere ogni cosa, ci dice il Signore. Gli apostoli Filippo e Giacomo ci hanno trasmesso con la loro vita, con la loro sequela verso il Signore questo amore, questa potenza travolgente che fa risorgere a vita nuova. Allora preghiamo insieme questi due grandi seguaci di Gesù perché ci aiutino loro a vivere e a contemplare la potenza di questo amore. Lo facciamo con un inno liturgico della chiesa bizantina ortodossa, il tropario dei santi apostoli. O santi apostoli Filippo e Giacomo, intercedete presso il Dio clemente perché ci ottenga il perdono dei nostri peccati. O santi apostoli Filippo e Giacomo, intercedete presso il Dio misericordioso perché discenda su di noi il dono dello Spirito Santo. Buona giornata.